ti sei mai sentito ignorato durante una conversazione o magari la tua voce hai riascoltato la tua voce e non ti piace questa voce vorrei averla più forte più sicura come possiamo fare ovviamente serve esercizio ma oltre all'esercizio servono più o meno delle indicazioni cioè che strada devo seguire quale quale percorso devo seguire per migliorare la mia voce in questo video ti faccio vedere 7 8 ti faccio conoscere 7 8 indicazioni suggerimenti da seguire per migliorare la nostra voce partiamo dal primo che è un pilastro che ripeto sempre ma bisogna ribadirlo la respirazione profonda è inutile pensare di avere una voce sicura forte certa potente come possiamo immaginare senza avere un buon controllo della respirazione perché spesso quello che si utilizza è una respirazione magari un po troppo alta che ci fa muovere queste spalle e quindi questa voce viene tutto quanto tutto questo tremolino questo affanno e quindi la nostra voce non verrà mai percepita come sicura per cui dobbiamo lavorare da una respirazione profonda mi raccomando puoi andare a vedere tutti i miei video puoi magari approfondire con dei corsi ma dove parlo proprio di respirazione profonda cioè proprio a partire da una voce dove non devo muovere le spalle e devo parlare in modo più sicuro se io ho più ossigeno più ossigeno posso gestire bene la voce è quello che ci ti dirò tra poco numero 2 è molto collegato e la postura corretta non possiamo pensare di poter arrivare con la voce guarda arrivare con la voce ok verso di te quindi portare la mia voce se io sono piegato se sto questo il mio busto lo dico sempre ma se ci pieghiamo così l'ossigeno non fluisce correttamente quindi il nostro strumento musicale che è la voce non avendo questo suono questo ossigeno che arriva in modo corretto ovviamente la nostra voce non può essere forte tra l'altro ti suggerisco lì come se adesso lì seduto in questo momento se provassi un attimo mettendo pausa al video così ti spaventi un po' di meno nel guardarmi ma a parte questo tenendo giù esercitandosi a tenere ben ferme le spalle già la mia voce risulta un po' più sicura più forte e quindi già un tono più profondo qualora lo stessimo cercando proprio perché non creo tensione che solitamente viene attraverso una postura che magari è così perché stiamo in questa maniera guarda posso parlare così quindi la postura è un altro punto fondamentale andiamo andiamo al numero 3 tecniche di risonanza un altro elemento che dà forza che dà potenza che dà anche un bel colore alla nostra voce è quello di seguire la risonanza la nostra cassa il nostro corpo funge da cassa di risonanza e quindi ci sono degli aspetti che sono collegati al tono attenzione a non far confusione con il volume è un'altra cosa stiamo parlando di tono ma anche la risonanza significa che io se ho una voce che va verso l'alto ha un tono più acuto se torna verso il basso e magari il voce è un po' più profonda quindi esercitarsi a gestire questa voce che si sposta nel nostro corpo quindi da una risonanza diversa ci consente anche di dosare di muovere i toni in base a quello che stiamo dicendo stiamo comunicando con gli altri per cui questi punti fondamentali ci danno la possibilità quindi di cambiare di dare un tono diverso e quindi anche una risonanza che è utile in base a quello che stiamo dicendo e dà anche corpo alla nostra voce e quindi si ha una maggiore sicurezza numero numero for e quello che stavamo accennando prima è il controllo della tonalità dobbiamo avere una volta che gestiamo bene la nostra risonanza come fa a risonare la nostra voce poi dobbiamo almeno riuscire ad individuare quando utilizziamo un tono alto o un tono più basso quindi avere questo controllo della voce e poi un controllo della voce più basso e quindi noi in questo modo riusciamo anche ad essere più sicuri e più interessanti quando stiamo comunicando perché io potrei magari raccontarti delle cose che hanno bisogno di un peso particolare anche in quello che ti sto dicendo quindi che ne so una cosa molto importante rallento e mentre rallento mi porto verso un tono basso ti voglio dire questa cosa molto importante ok ma se devo dire magari una cosa un po più giusto sai l'altro giorno mi sono divertito quindi il tono può andare verso l'alto e la nostra capacità proprio di gestire di evitare la monotonia quindi di variare questi toni da una forte percezione della nostra voce un controllo della nostra voce siamo forti perché sappiamo gestire appunto i muscoli della nostra voce e questo è un punto da considerare dopodiché andiamo al numero 5 bene numero 5 è l'insieme di tutto cioè nel senso che ovviamente la nostra capacità la nostra forza nel gestire la voce dipende da tanti fattori ne abbiamo detto no quindi partiamo respirazione o una respirazione corretta e devo ho bisogno di volume benissimo posso utilizzare volume che non è il tono quindi alzo di più il volume della mia voce attenzione perché lì potrebbe esserci il rischio quando alzi il volume della voce di essere percepito come una persona che si sta arrabbiando e uno ti dice ma che cazzo lo hai cioè perché ce l'hai con me quindi anche quello avere un controllo del tono ma attenzione anche il ritmo cioè avere quella capacità di dosare la velocità delle parole in base a quello che stiamo dicendo avere questa velocità diversa ci consente anche di comunicare in modo efficace perché io ho un controllo in questo caso della mia voce e riuscire ad avere questa velocità il ritmo che devo dare e il ritmo non è solo questo perché nella varietà vocale rientrano anche le pause e io se sto dicendo voglio dirti una cosa molto importante come dicevamo prima quindi uno voglio dirti una cosa molto importante quindi tono basso dopodiché non parti subito dai aggiungi una pausa oggi e quindi poi racconti quello che hai da dire per cui quella pausa strategica che è una pausa che dà un ritmo diverso la mia al mio parlare e in più e in più dalla possibilità al mio interlocutore di seguire attentamente quello che sto dicendo e di recepire soprattutto quando siamo dal vivo si possono fare delle pause purtroppo io in questo momento sui video portavo un secondo la gente magari o no scappo perché c'è il maledetto telefonino se devo scappare ho fretta ma nella vita di tutti i giorni quando parli con gli altri ti puoi permettere qualche secondo in più e questo secondo in più dà la possibilità alla persona di comprendere esattamente ciò che stai dicendo quindi in tutto questo sistema rientra la tua varietà la tua capacità di variare le parole la velocità il ritmo a tutto ciò che concerne l'uso della voce per far sì che ci sia questa comprensione maggiore e dimostri controllo e sicurezza di quello che stai dicendo a proposito volevo dirti che tutto sta cose che sto dicendo se mi vuoi supportare non ti costa nulla basta schiacciare da qualche parte il modo per iscriverti e tieni insomma mi fai capire che ci sei per te non costa un cacchio invece mi scrivo e sostieni mi fai capire che c'è qualcuno lì che mi ascolta e non che stia parlando da solo andiamo avanti dicendo qual è il numero 6 che è quello di riduzione del naso mi fa sorridere perché questa cosa quando l'ho scritta ho detto ma beh usa un attimo allora riduzione del naso non significa la riduzione perché sarebbe riduzione della nasalità ma in realtà non sto dicendo questo non è che devo andare dal chirurgo tra l'altro non so se devo andare crediamo non so ma mi cercherà un 150 mila euro stavo dicendo comunque per il naso proprio la voce nasale allora alcune volte non si può chiaramente ci sono dei passaggi che bisogna fare bisogna andare da uno specialista cercare di indagare il perché ma dico invece a tutti coloro che la gestione della respirazione dell'ossigeno anche come viene gestita la voce porta ad avere un'accentuazione di questo nuovo suono nasale perché io in questo momento se devo parlare così lo sto facendo perché proprio non sto sto cercando sto facendo uscire l'ossigeno la mia voce proprio viene prodotta attraverso da questa parte qui quindi io in base a come muovo questo aspetto della mia respirazione posso cambiare la voce per cui dovrei cercare di ridurre questo per evitare in alcuni casi di essere poco comprensibile sulla base di alcuni suoni che sto producendo intendiamoci sia chiaro in alcuni casi e va bene e così però un minimo la si può ridurre sul aspetto della respirazione non sto parlando di aspetti che magari dipendono proprio da fattezze che non dipendono ovviamente bisogna indagare con uno specialista tra l'altro apro e chiudo parentesi ma trovi sempre nel mio canale un video dove parlo proprio di questo aspetto di come gestisci meglio la respirazione dal punto di vista della nasalità detto questo abbiamo un altro punto fondamentale che è quello di sintonizzare il tono questo come dicevamo prima abbiamo a che fare con la varietà quindi la varietà della mia voce ma devo sintonizzare il tono immagina che tu debba proprio sintonizzarti come se avessi una manopola col tuo interlocutore quindi generalmente quello che succede è che io se ho davanti una persona devo cercare di identificare con un ascolto a te sempre la pistola con un ascolto attento cercare di adeguarmi al tono del mio interlocutore qui però bisogna stare attenti bisogna stare attenti perché se il tono è abbastanza nervoso di questa persona e se io rispondo con un tono troppo pacato tranquillo a volte infastidisco questo è quello che succede per cui devo cercare pian piano di portare da quello non è che devo alzare con un tono anch'io però piano piano se il tono è così alto se in caso di rabbia lo dico piano piano tu ti porti un tono più basso poi più basso più basso e riporti stabilisci la calma lo puoi fare anche con la voce chiaramente sto estremizzando perché se davanti è uno che fuori di testa in quel momento ovviamente con la voce non fai nulla detto questo però io mi sentitizzo il tono anche di una persona che mi sta comunicando un qualcosa perché triste perché le è successo qualcosa eccetera eccetera allora io in quel momento mi adeguo a quel tono e continuo a parlare in quella maniera anche qui la voce forte non si intende il fatto che dobbiamo essere una voce forte che devo urlare la voce forte significa voce sicura voce che non ha tentennamenti quando sta comunicando e si adegua anche al contesto per riuscire a comunicare sempre in modo efficace con il proprio interlocutore